ecco amichevole partitella in famiglia tra gli esordienti con la casacca rossa e giovanissimi con la tuta rappresentante qua c'è il gruppo le mister mister giuseppe mister simone mister roberto qua c'è la panchina degli esordienti e qua la panchina degli giovanissimi si sta riscaldando pure gabriele da quest'altro lato allenamento dietro la porta degli allievi di mister gabriele attacco dei giovanissimi ma esce il portiere e para abbiamo luca rulli che poc'anzi ha segnato una rete l'abbiamo l'arnè emanuele mammarella alex la si vede simone pellegrina lo si riconosce con i calzettoni gialloneri qua c'è nicolò mister giovanni osserva tutto quale migliore postazione e la tribuna per osservare i suoi ragazzi ragazzi in una veduta panoramica del campo bravo la in fondo c'è il gruppo degli allievi un ulteriore attacco simone qua federico di donato c'è nicolò calcio d'angolo ecco vediamo stazione interrompiamo la ripresa c'è nicolò non male senza paura non è male senza paura vai raddè 3 gira con la piatta di battuta passano tutta l'aria la palla siamo in giro a piatta di Lai in punto proprio sulla fascia laterale ci sono gli allievi, già stanno preparando per la partitella in quanto alcuni indossano la casacca bianca mentre gli altri sono la classica tuta di allenamento. Scendo un po' di umidità, l'aria, la temperatura è un po' frizzante. Oggi è martedì, la prima seduta di allenamento qua al Nuovo di Via Olimpia. Allora come diciamo questa partitella sono i giovanissimi e gli esordienti. Mentre là in punto si allenano gli allievi di mister Gabriele. Per notizia questa settimana gli allievi osserveranno il turno di riposo programmato mentre i giovanissimi di mister Giovanni scenderanno in campo i ragazzi giovanissimi lunedì alle 15 contro il rapino calcio. Signori e signori, al prossimo collegamento, buonasera.